Da due anni si è saputo che l'asino, che ha il membro agli animali a quattro zampe più lungo, più solido, più forte, quando va con la femmina mette dentro solo tre centimetri di questo membro. E non si capiva perché. Stamattina c'è stata una dichiarazione ufficiale dell'Università della California, abbiamo capito perché l'asino introduce soltanto tre centimetri del suo membro virile nella femmina quando si accoppia. Perché? Perché è un asino! È grave! È vero! È vero! È vero! È vero!